Secondo l'assistente, Lucchese mette nel mezzo ed è incredibile quello che si sbaglia Todino Importante qui a Selvapiana, mentre intanto Ambrosini prova la conclusione Palla che Sibila a lato, il destro di Alex Ambrosini, lo chiede scusa a De Iori Per il campo basso, Borrelli intanto, attenzione la palla che Sibila Borrelli dalla bandierina, c'è Nodari, ma c'è Grillo, Sibilla, vediamo il colpo di testa Increibile fuori gioco, fuori gioco, e non si è andato infatti anche a me Vediamo Andrea, Sibila, tocca verso Ambrosini, ancora Sibila, il tiro E la palla che stila a lato, fallo pericoloso, coperta anche a centro il campo Lezzerese di Modari, attenzione il campo basso che spreca con Alessandro Tino, entra Nare Todino, il tiro, attenzione, c'è il gol, c'è nel campo basso Gabrielloni, parte Alessandro, il tiro è il gol Campo basso 2, fallo 0 Calcio di rigore di Alessandro